Già l'orchidea che dimorizzava, l'orchidea della medicina per l'anima, il libro, l'orchidea storia e personaggi di quarta edizione, sono 572 pagine dell'orchidea e praticamente c'è tutto sul mondo dell'orchidea. L'orchidea è cosa solo, dove vivono, la coltivazione in casa, come si bagliano, la temperatura, l'umidità, la ventilazione, l'arriaggiamento, l'illuminazione artificiale, come si taglia il stereosfirito, l'invaso, la fioritura, tutto quanto. E poi la descrizione di tutte le specie più comuni, abbastanza dettagliate, invece quelle più particolari, quelle più appassionate, ce ne sono tantissime, con una descrizione un po' meno da tagliare, un po' più sintetica, perché se no qui viene fuori un libro che non so che cosa. Comunque è un libro che se siete interessati in orchidee potrebbe esservi molto utile per tanti motivi. Ok, allora passiamo adesso, facciamo un'offerta per settimana prossima. Queste sono piante solo per settimana prossima, perché poi settimana l'altra è Natale. Sono tutte in fiori e in bocciolo, solo una non è fiorita, perché abbiamo parecchi di questi dendrobialodigesi qui che adesso sono a riposo, sono piccolini ma già fioriscono. Questi qui, dato che so più che facciamo un'offerta, le offerte del 20% di sconto su tutte le piante, questa qui praticamente costerebbe 10 euro, viene costare 8 euro. Allora, ma le valie, queste valie ce le ho qui un po'. Questa è la striatella, che sono con i fiori e i boccioli, è molto striata, se dovete guardare bene il fiore, è tutto rigato, vedete? E con questo hanno fatto anche tanti ibridi importanti. Questa qui invece è la Masdevallia Garcia. Poi nella descrizione del video vi metto tutto anche come coltivarle. Poi di Masdevallia sempre c'è la, questa ce l'abbiamo in Zatra, quelle lì sono in base, questa è in Zatra. L'edifica rossa, piccola, costano 15 euro, i grandi 20 euro, con lo sconto del 20% vengono a costare 15-12 euro, e quelle l'alba, eccola che è, 20% meno. Poi ci sono degli epidendrum, porpoax, questo è porpoax alba e questo è porpoax normale, che sta cominciando a finire adesso. Queste sono varietà molto, molto nane, e queste vengono, 20 euro, con lo sconto vengono 16. Poi c'è qui delle Masdevallie, allora queste sono le, solitamente ibridi sono sempre per Natale, vedete, però sono piene di boccioli, hanno un casino di bocciolini, questa non è più, questa qui, forse ce l'è per Natale, perché le altre sono un po' più indietro, vedete, come queste, sono un po' più acerbi i boccioli, che sono piene, piene, piene di boccioli, perché questa qui fa una fioritura unica, solitamente per Natale, ma con un casino di boccioli. Ah, poi, dipendendo un po', poi abbiamo anche quello classico, quello con il gambo un po' più lungo. Vedete, queste qui sono ultra compatti, ultra piccoli, mentre queste vengono più grandi. Queste qui vengono 15 euro, anche le Masdevallie o Fioglossa, poi ci sono anche grandi, volendo che costruventi. Questa sta cominciando a fiorire adesso, è la Masdevallie Tovarensis, che ha una caratteristica bianchissima, bianco, bianco, bianco. Viene da Venezuela sull'ottopiero del Tovarensis, questo si chiama Tovarensis, e fiorisce anche sui bulbi vecchi, che ha già fiorito, i rami vecchi, che ha già fiorito, vedete? Fioriscono che questo qui è il ramo vecchio, e fiorisce anche lui. Poi abbiamo qualche Oncidium, questo qui è l'Oncidium Lemon Surprise, è un oncidium che è giallo, intanto un casino di piccoli fiorarini gialli profumati, e questa è la mamma dell'Emma Surprise, questo è l'Oncidium Cairoforum, anche lui in boccio, profumo di limone. Poi abbiamo un po' di Masdevallie Ibride, sia in vaso che in zazzera, che vengono quelle più piccole, così, 15 euro, quelle un po' più grandi, 18, e lo stesso quelle in vaso, queste qui più grandi, vengono 20, queste grandi grandi, e queste più piccole, 15 e 18. Ok, tutte queste qui, quelle che volete, col 20% di sconto, per settimana prossima, perché settimana prossima, appunto, dopo la settimana o l'altro, non si può più spedire che Natale, dopo le feste. Per cui, così, a domani.